E all'auditorium del Maxi di Roma, nella giornata nazionale del mare e nel ventennale dalla scomparsa del cantatore Di Andrè, un'iniziativa di AMI, Ambiente Mare Italia. Presenti anche Neri Marco Re e Edoardo De Andris che hanno suonato le canzoni dell'artista dedicata al mare. Vediamo insieme anche l'intervista ad Alessandro Botti, presidente AMI. Il problema della plastica non esiste più perché ormai esiste un'emergenza globale della plastica, siamo molto oltre il problema. Oltre 150 milioni di tonnellate sono ormai nel mare e ogni anno 8 milioni di tonnellate si aggiungono ai rifiuti in plastica che danneggiano profondamente il nostro male e la biodiversità che in esso rappresenta una ricchezza del mare. Noi come Ambiente Mare Italia ci siamo impegnati in una campagna di riduzione dell'uso della plastica perché siamo convinti che bisogna partire da lì. Sensibilizzare, informare e divulgare sulle buone pratiche per ridurre l'uso della plastica, non solo nelle famiglie ma anche nelle istituzioni e nelle aziende italiane. Lo facciamo attraverso un'opera diffusa di sensibilizzazione ma anche attraverso una mappa, la prima mappa della ecosostenibilità italiana su www.libermi-dala-plastica.it dove ogni iniziativa di responsabilità ecologica di aziende e istituzione viene geolocalizzata e dove gli italiani possono trovare tutte le indicazioni sulle buone pratiche per ridurre l'uso del materiale gravemente inquinante. Grazie a tutti.